Incrocio Lavezzi, pallone dentro per Matador che deve rincorrere la sfera, bravo, recupera la palla Matador, vediamo cosa si inventa, c'è un tocco per Dossena, non è fuori gioco, Dossena con sinistra, basta, GOOOOOL! Gol a Lavezzi, Lavezzi, GOOOOOL! E mamma mia, e mamma mia, e non poteva finire così, e non poteva finire così, e cinque parate, è un incrocio dei pali, è per la miseria, e adesso la voglio vincere questa partita, adesso la voglio vincere questa partita. Vai Napoli, vai Napoli, 26 minuti del secondo tempo, la voglio vincere, 1 a 1, il gol di Lavezzi, sottomisura, anticipato con uno scatto bruciante, anche l'uscita del portiere del Cesena, bravissimo. Pallone per Zuniga, la forza restiamo lì, Zuniga, Lavezzi, a cucchiaio, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore Napoli, è stato l'assistente dell'arbitro a segnalare il calcio di rigore, vediamo quello, vediamo quello che, si c'è anche l'ammunizione per Lauro, calcio di rigore, c'è anche l'ammunizione per Lauro, per proteste, e quindi calcio di rigore Napoli, 35 minuti. Vediamo qui, Zuniga che termina giù, Zuniga che termina giù nell'area di rigore, l'abitro segna il calcio di rigore, calcio di rigore Napoli, c'è Mare Kamsik sul pallone, il minuto è il 35 del secondo tempo. Gli vediamo ancora una volta, è stato bravo, Lavezzi, pallone per Mare Kamsik. Mamma mia, chiudiamo gli occhi e sentiamo il boato della curva. Va Marek, va Marek, va Marek, va Marek, GOOOOOL! Marek Kamsik! Cesena 1, Napoli 2, Cesena 1, Napoli 2, è un film già visto, è un film già visto. E questa è la seconda polpetta e il ragù è quasi pronto, e questa è la seconda polpetta e il ragù è quasi pronto. E questa è la seconda polpetta e il ragù è quasi pronto. 10 più recupero alla fine, Napoli 2, Cesena 1, anzi, su Gargamella, vai Trottolina Amoroso, vai Trottolina Amoroso su Edinson Cavani, Matador, Matador, punta, 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 Matador, un dribbling riuscito, il secondo, Matador, GOOOOOL! Tutti a casa, 3 polpette, tutti a casa, 3 polpette, Matador, 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 tutti a casa, 3 polpette, 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 Matador! il sigillo del Matador in contropiede il pallone nell'angolo dove non ci poteva arrivare Antonioli che ha fatto miracoli cose straordinarie Matador per la terza polpetta e adesso signori il ragù è pronto adesso signori il ragù è pronto possiamo andare a servire il ragù Cesena 1 Napoli 3 Cesena 1 Napoli 3 tre polpette tutte nel secondo tempo Lavezzi, Amzik e Matador adesso Lavezzi vai Pocio poi Matador, Pocio c'è anche Matador Pocio va da solo Matador a sinistra posizione irregolare gol vado a morire qui uccidetemi uccidetemi fatemi a pezzi cosa sto vedendo cosa sto vedendo questo è un mostro questo è un mostro e ce l'abbiamo noi questo è un mostro e ce l'abbiamo noi spettacolare basta è troppo amici 4 a 1 4 a 1 mamma mia fatemi a pezzi fatemi a pezzi toglietemi il cuore da petto vedete colorato da azzurro Matador doppietta personale quinto gol in campionato che gioia amici nessun traguardo ci è precluso nessun traguardo ci è precluso Napoli 4 Cesena 1 Matador guarda al cielo e ringrazia il signore noi ringraziamo te perché hai voluto vestire orgogliosamente questa maglia azzurra numero 7 Napoli 4 Cesena 1 che è domenica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti